Adesso è ufficiale, il sito di San Vincenzo al Volturno è in corsa per ottenere il marchio del Patrimonio Europeo 2023. Il Ministero della Cultura ha inviato alla Commissione Europea tutta la documentazione necessaria per la candidatura del complesso, che sorge tra i comuni di Rocchetta a Volturno e Castel San Vincenzo. Tra i luoghi italiani candidati, anche quello di Sant'Anna di Stazzema in Toscana, i due siti si contenderanno il titolo, a decidere un gruppo di esperti e studiosi. Il marchio del Patrimonio Europeo è un riconoscimento che mira a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione, valorizzando posti dall'importante qualità storica. San Vincenzo al Volturno, infatti, è sede di un'antica abbazia benedettina e della cripta dell'abbate Epifanio. L'Italia candida due siti di straordinario valore, entrambi meritevoli di riconoscimento. Le parole del Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, qualunque sia la scelta che verrà presa a giunto, sarà più che giustificata dall'alto valore simbolico e culturale che i due complessi rivestono nell'ambito del processo di formazione dell'identità europea. Del resto, il Ministro era già rimasto colpito dalle attrazioni del Molise in tempi non sospetti. Queste le dichiarazioni che aveva rilasciato alla stampa in occasione della sua visita ad Agnone a dicembre scorso. L'intero Molise sarà un punto sul quale io mi concentrerò, affinché il Ministero della Cultura possa portare su questo territorio delle opportunità di crescita. Perché guardate, la cultura non è soltanto un fatto, come dire, museale, distante. La cultura è anche un grande fattore economico di sviluppo. Grazie. Grazie.